C'è vetro e vetro. Gli specchi Miralight Pure di Sangoban Glass sono pensati per ridurre l'impatto sulla salute e preservare l'ambiente. Contribuisci insieme a Sangoban a generare un'economia circolare. Vernice a base acqua, vetro riciclato e zero piumbo aggiunto. Riflettici, gli specchi Sangoban Glass sono ecologici. I vetri non sono tutti uguali. Scegli i nostri partner, scegli il Multicomfort, scegli Miralight Pure di Sangoban.